Difenderà la Supercoppa al Palabarton. Entusiasmo per vecchi e nuovi giocatori. Noi abbiamo raccolto le prime impressioni. Vediamo. Riconfermarsi è sempre complicato ma Perugia c'è. Beh certo, riconfermarsi è difficilissimo, però questo deve essere il nostro obiettivo. Nonostante ci siano squadre che sono molto ben attrezzate, tecnicamente, tatticamente, che avranno un grande spirito di rivalsa, che avranno un grande spirito di abnegazione nei nostri confronti, nel senso che l'anno scorso se Perugia vinceva poteva essere, non aveva mai vinto e prima o poi toccherà anche loro. Adesso tutti faranno di tutto perché non si ripeta questa cosa qua e noi invece dobbiamo fare di tutto perché si ripeta. La gente si aspetta molto a voi perché Perugia ha vinto tanto l'anno scorso, quindi i tifosi aspettano tante vittorie. Anche noi aspettiamo tante la vittoria, dobbiamo vedere il corso perché arriviamo alla Supercoppa e a un campionato che siano tante le squadre al livello stesso, ma noi ancora siamo pronti per arrivare a questa temporada in buona forma.